Il 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Quali sono i cambiamenti globali e quali stiamo assistendo e che impatto hanno sull'ambiente? Innanzitutto citerei i cambiamenti della composizione atmosferica indotti dall'uomo, il cosiddetto climate change, che è sicuramente un ruolo fondamentale ma non è l'unico ad avere un ruolo. Anche cambiamenti di uso del suolo come il cosiddetto consumo di suolo ma anche il cosiddetto displacement, cioè un cambiamento di destinazione di uso del suolo per esempio da foresta a terreno agricolo è molto importante. Poi abbiamo l'urbanizzazione, abbiamo un cambiamento delle abitudini alimentari che stiamo osservando nei paesi asiatici, abbiamo un depauperamento degli oceani, un'accelerazione dell'erosione. Tutto questo ci porta a riflettere su quello che è il ruolo dell'ambiente, su quelle che sono le risorse che possiamo utilizzare ora e che soprattutto potremo utilizzare in futuro quando saremo 9 miliardi. Il tema di questa giornata dell'ambiente 2015 è 7 miliardi di sogni, un pianeta, consumare con moderazione. Questo titolo ci fa capire come noi 7 miliardi di abitanti su questo pianeta dobbiamo sognare. Dobbiamo sognare una modalità sostenibile per vivere in questo pianeta dove questa modalità sostenibile implica un rivedere le nostre proprie abitudini in modo da consumare meno risorse di quelle che stiamo consumando ora. Noi ora stiamo consumando una volta e mezzo le risorse del nostro pianeta. Le foreste quindi sono fondamentali per il clima. Qual è il loro rapporto con il Nexus Acqua Energia Cibo di cui si parla tanto nell'ambito di Expo 2015? Le foreste sono fondamentali nel Nexus Acqua Energia Clima ma io oserei allargare questo Nexus anche al suolo e alla composizione atmosferica. Esaminando il Nexus elemento per elemento e partendo dall'acqua le foreste sono fondamentali perché esplicano un ruolo fondamentale in un particolare fenomeno che attiene al ciclo idrologico che è quello della traspirazione. Grazie ad esse si ha vaporeacqua e un'atmosfera che poi viene trasportato nel momento in cui ci sono correnti atmosferiche dove è opportuno esso condensa da origine alla precipitazione e quindi alle risorse idriche che poi vengono utilizzate per produrre cibo ma possono essere anche utilizzate per produrre energia. In modo intuitivo pensiamo all'idroelettrico ma l'idroelettrico non è assolutamente l'unica fonte energetica che utilizza l'acqua ma ce ne sono anche tante altre. Grazie a tutti.